e sto qua no no dice questo acqua arco Lode Eh qua Ma è il tesoro tuo o il tesoro a casa È il tesoro mio Ma è il mio qua Eh, hai trovato, hai trovato i tesori? Hai trovato i tesori? È a Sissi di torno in me Sì Beh, è ricorda essere Anni inna è tipo a 9-9 Boh, io ho guardato la mappa E' scomparsa la mappa E' scomparsa la mappa E' scomparsa la mappa Non ho fuori la mappa Vabbè... Non è che tipo è questo Quindi... C'è l'ho, c'è l'ho Aia Il Fononini può andare a 9-9 No, io Sapevo il trucchetto che Se quel da via la mappa la trovavi Eh, come era? Eh, come è la mappa Ma devo stare tipo un pixel indietro, vero? Eh, se me la vedi lo trovo, dammela No, no, cosa, cosa, cosa Cosa o... Come si chiama? Vabbè, si, vedi capito No, me ne siamo tutti pensati, mi sa Eh, oddio, come si chiama? No, no, perché si è fatto l'armatura di pelle Sì Ma se lo spastico Lo fai a te, ok? C'è mai da sempre che ho spiegato 24 duevelle Sono coglione, rega No, hai messo la distrazione Ma secondo te perchè non l'ho messa? Perchè, secondo te perchè non l'ho messa Ma? Ma? Canci Guarda Eh, vedi Non si trovo lo scopo Se tu lanci una cosa e ci risora La com'era Ma compra Che quando la scopola La scopola La scopola Un poco di velluta Quindi dobbia La scopola Ma come ha fatto questo? Scusa, sei morto Va, c'è un muo Accetto E' basically Perchè quanto morì dovrebbe sparire Ma se non sono morto Sì che si tratta ci sveva Ho appena trovato nel portale Non c'è stato un problema adesso ragazzi E per te non è un problema Perché nessuno di noi è al punto di spawn Settato adesso Siamo arrivati a farlo Se la fanno però Però vorrei trovare la terra firma Che non c'è più cerca Che spalle o Vogliamo incamminare per via terra? No, non c'è Oh te lo vedo No, 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 no E' sempre deserto questo bro No, no Eh, ho detto, ho detto, non c'è stato un po' io Sì, c'è, c'è stato un po' di carto Non è una spiaggia deserta Oh, fidi di me No, no, fidi di me deserto Un altro portale, vabbè, non c'era Ma come? Un altro portale, ti giuro Sì, tu pure metto completato Bella, l'oro Speed Speed Oh Oh Fa' un po' di aspect E' più con vending, buono Ragazzi, fai E' scemo Sono noi Sono noi Sono noi Ce li abbiamo greletti, no? Sì È bello che l'avevo pure vista Sì Dove quando ero? Ma vedi come lei mi miscola là Sì, altra là Sì E io Oppure per andare via mare e via la terra Io ve l'ho detto, fate questa chiera Un altro deserto Eh, vabbè, tanto è uguale E' uguale Io potele verbi Oh, villaggio, villaggio, villaggio Sì, dormito, dormito, dormito Sì, dormito, dormito Ho molto paura Hai già Caccetti Oh, fra Ho fatto tre metti in hardcore e non sono mai morto E' buon amore Ho un cuore Eh, vabbè, c'era tipo l'ha più in grado Oh, fu Ho fatto Ho fatto E' presente quando sono morto quando avevo tipo il recente di il recente di giorni e passa la mia bellissima Asgard Ho fatto quando sono morto è tipo l'uno al mezzo di notte ero vedete quel pesante tipo il pollo mi sento mi sveglia cioè, si sveglia e io dico vabbè è un cammello è un cammello questo è goloso questo è mio questo è mio questo è mio no, oh vabbè, ci fanno nel due, è vero è rossa vabbè, scialo è rossa eh Serena dice che devi mandare dati Serena mi le fa un pochino, quindi tu vuoi lontano è to' serio 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 ok ci avranno un po' da roba io ok ti ricordi? eh, senti, Serena eh hai detto? no, no, dico Franci ti ricordi, Serena io? no la mia ex elementare eh, sì fratto non lo avevo mandato in ieri Franci non ti consiglio di attaccarlo sai infatti non volevo attaccarlo beh, però mi toglierebbe questo il metodo che mi da molto sostegno ma ok, io ho scritto vabbè, ci daria tranquillamente sentiamo che rispondo Franci non c'è spazio per il fare che che fa' il ferrocotto? eh, io manco vabbè, vabbè, butto qualcosa eh, non dovrebbe avere il ferrocotto questa villaggia faceva proprio schifo arcazzo vabbè, 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 il ferrocotto questo è il ferrocotto eh, la città per me per legno è viola però ah, di questo, eh, eh eccedenti di percorso della tezione di Francia niente di che ma scritto Serena non ho ancora risposto sta preparando proprio ecco ma c'è appena lasciata, esiste ah, appunto eh scicchi ora, io ho ottenuto il comitore inizia avere di nuove le coordinate comunque un diamo alla fine guarda che più ovo 1.4 un altro, un altro villaggio questo sembra più groso è vero, a considero pure di cammello non ho detto che c'è cammello ah, perché sì che mi chiede che arriva per ultimo eh, che è proprio di acluore io sono ok? e che ne fai? e che ne fai? mi chiamo se c'è il cammello? si cioè infatti come pensavo lo cavalli sempre con la sella? no cioè puoi cavallarlo ma non puoi andare puoi venire la sella c'è la sella apposta da dove stava lo spure per metterli la sella ah ah ho capito se non vieni cavallarlo pure senza ferro per ferro venga io sono caduto nel mio blocchetto ok sono vivo sono vivo ho trovato degli stavoletti in ferro dentro il fabbro che li vuole che ci vuole? che ci vuole? sono ovviamente col ferro vai vai no c'è finalmente i flyer ci fermo ma guarda che io mi prendo la zappato va bene quello che ho la zappato ma guarda che cazzo allora ragazzi dove andiamo? manci ma guarda la mangrove oh cazzo oh mio zio manci ma quanto è grossa sta mangrove comunque? ma infatti cioè dove andiamo? oddio non lo so la mangrove comunque la vorrei tenere vabbè tanto vabbè tanto vabbè si facciamo prendere pure i funghi vabbè con me prendete un fungo a casa vabbè basta non c'è basta io piterei oh una piramide! una piramide dentro il villaggio what the fuck 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 ii lo so di totalmente su non me ne ero accorta ok io buonissima la piramide vai entriamoci entramare la sistema senza dei miti hai vido ok ok hai fatto anche io lo dovrei dai che finca diremo ma sono forte buono ragazzo occhio lo danno fratto quanto mi sono rischiata oh oh ho 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 altri dei dei degli Arqu ahahah Achille c'è un problema ora c'è l'athlet immeda da dove ti vado vado è sì è un po' difficile perchè ed lascia perdere, è un po' un casino di schede è tutto va beh, secondo me non c'era buco per dentro da me Franci, tu spacchi per i block sopra di un hacker io non c'ho block, sei Franci, facciamo il problema ma non ci dovrebbe essere la sabbia sospetta eh lo so, problema che non ci dobbiamo all'arma estraversarla eh no e Flori non so se sa che cos'è la sabbia sospetta era la sabbia che potresti trovare di poter l'armatura bella ci hai idea? eh non abbiamo il rame ah ah è giusto il rame si vettrava molto facile mi pare che ci siamo pure cristalli mi pare, non mi ricordo quello è neanche frecca, non mi ricordo no pure però non mi ricordo se mi grattavo non mi ricordo se mi grattavo ok sei pronto? ah ha oddio 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 vedi che è matto ma ti ammaggio qua c'è un altro cammello se troviamo un'altra sella da meno dire che anche al posto Flavio è un pennello la mese la mese non l'avevo vista oh ma che si deve c'è un fabbro di nuovo non lo vedo non lo vedo da un sappio il fabbro eh non ti ho bene ti ho preso che ti ho rarissima no che ci sta niente di che lo scopo di ferretti di famello ho persi cammello ho persi cammello ci devi le dolem fa lavoro sparco ah ho persi cammello sbagliato dove sei cammelletto ho persi cammello oh ti ho cammello no ho fatto della vista il cammello ho persi cammello veramente perfetto ma quando l'hai parcheggiato eccole 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 no for me è andò pure lì ma fa un uccolo ti ho detto che ti fai la contraddizione dai ma dove sta ok grazie cactus no vabbè piramide no vabbè cioè va bene tutto però comunque non è che fa un bel seed cioè perchè non è un buon posto per fare casa no attraverso non trovo un posto per vero grazie ho perso ho perso non ti dirai a me vediamo rai io non sto cliccando niente papà ferma il cammello non posso vada solo vada solo vada solo vada solo vada solo eh io ho perso ok dove stai dove where are you where are you ma com'è che si zoomava eccoci manco quello mi funziona no vabbè che ce l'ho ti fai palesimente perché lo motivo dove stai fra io noi li davo visto da quelli ciao 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 ciao